Un nucleo di aria fredda in quota in arrivo sul Mediterraneo centrale sul canale di Sardegna porta all'aumento dell'instabilità atmosferica. Da lunedì tale nucleo di instabilità tenderà a spostarsi verso Levante, colmandosi lentamente. Domenica 24 luglio in Toscana, cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti a tratti intensi associati a precipitazioni sparse e locali temporali anche intensi ma di difficile collocazione. Durante la notte e il primo mattino i temporali saranno comunque più probabili sull'arcipelago e sul litorale centro-meridionale, mentre nel pomeriggio la probabilità maggiore è nelle zone interne. Venti deboli, mari fra poco mossi e localmente mossi, temperature lieve calo le massime. Su tutta la provincia di Lucca cielo nuvoloso e temporanee schiarite. A Lucca e nella Piana, temperatura minima prevista 20, massima 31 gradi. A Viareggio in Versiglia, minima 22, massima 27. A Castelnuovo e zone montane, minima 16, massima 29 gradi.